Finisce 4-2 per la Coppa UEFA, derby tedesco fra gli occidentali dello Stoccarda e Maglia Bianca e gli orientali della Dinamo Dresda. Ha vinto lo Stoccarda 1-0, a sedio dello Stoccarda ma pericolosa controoffensiva della Dinamo. Vediamo questa azione Samuel Stubner, colpo di testa di Gutschow, il suo bomber, deviato a fatica da Immel, come rivediamo in questa fase rallentata dietro la porta di Immel. Ma in prevalenza la partita ha vissuto sempre sugli attacchi dello Stoccarda, la formazione diretta dall'olandese Hahn è passata dopo aver molto cercato il gol con Sigurdinzio e con Gaudino, con Al Goeber. Ecco il gol di Al Goeber a metà della ripresa con un bel controllo davanti al portiere Toiber. Rivediamo, è bravo e anche un tantino fortunato Al Goeber in questo controllo, riesce ad arrivare con il sinistro e a battere Toiber, un 1-0 che potrebbe anche non essere...